4, 3, 2, 1, go! Merry Christmas! E' partita la corsa dei bambi Natale! E' partita la corsa dei bambi Natale 2019! Bravi bambi! Non si corre! Si cammina! C'è anche Campigotto! Quella bestiaccia di Campigotto! C'è Alessia Dallò! Un nome e una garanzia! Giuseppe Dalia vi fare foto! Sarà che non mi vedo da tanto, ma o siete stati dall'esternino?